35 giorni di guerra in Ucraina e la marea di rifugiati continua a traccimare nei paesi vicini. Un numero record sono oramai 4 milioni. È il più grande esodo sul suolo europeo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e nulla indica che sia vicino alla fine. Oggi abbiamo superato la soglia dei 4 milioni nel complesso. Penso che sia una tragica pietra miliare. Significa che in appena un mese 4 milioni di persone sono state sradicate dalle loro case, dalle loro famiglie, dalle loro comunità in quello che è il più veloce esodo di rifugiati in movimento nella storia recente. La Polonia ospita più della metà dei rifugiati, seguita da Romania e Moldavia, che insieme accolgono quasi un altro milione di persone. Ma l'Europa sta anche vivendo un'ondata di solidarietà senza precedenti a diversi livelli. Questa carovana di donne ha percorso 4 mila chilometri per portare aiuti a chi scappa dalla guerra. Per molte di loro è stato uno shock emotivo. E' difficile. Ieri ho visto molti bambini. E' stato, come madre, è stato molto complicato. E poi, quando siamo arrivati in questa prima associazione, ci hanno offerto un disegno, un quadro. Noi diamo loro qualcosa e loro ci danno qualcosa anche se non hanno niente. La stragrande maggioranza dei rifugiati è rappresentata da donne e bambini. Gli uomini, a parte gli anziani, sono rimasti in Ucraina. E si stima che nel paese ci siano più di 6,5 milioni di sfollati interni.